Salve salve a tutti cari amici e non e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi faccio questo video perché vorrei rispondere a delle cose che ha detto in un'intervista live fatta su un canale Mauro Boselli qualche giorno fa e soprattutto a una frase che lui ha detto su di me dicendo che io praticamente alcuni miei video sono delle pagliacciate però non lo sono quando poi vado a elogiare alcune storie perché infatti in quella intervista dice che ah sì il video che ha fatto sul text magazine quello che celebrava i 75 anni quando poi invece magari capisco tutto il lavoro che ha da fare che non ha poi guardato il successivo perché io ho elogiato anche il successivo magazine la successiva storia non soltanto quella e poi appunto dice che io faccio delle pagliacciate quando magari strappo dei fumetti o come ho fatto con il suo texone tempo fa l'ho usato al posto della carta igienica ma ovviamente quelli sono video che mi sembra strano doverlo spiegare ma sono dei video gogliardici che io faccio lo faccio apposta cioè non è che io sono dei video che io uso per marcare un mio pensiero sì a volte all'interno del video sono veramente arrabbiato la cosa è vera perché lui dice a volte degli scatti d'ira sì detta così può sembrare papale cioè se sono scatti d'ira non è che sono scatti d'ira è un po' di rabbia un po' di gogliardia che però a me piace fare perché va a un po' enfatizzare il discorso che poi sta alla base cioè la critica che è alla base di quelle mie parole perché poi sono critiche che io reputo fondate è che molti lettori e molte altre persone che seguono i miei video poi nei commenti oppure anche quando li vedo parlare su altri canali comunque ripetono quindi sono cose che pensano ossia la sua famosa e di questa cosa me l'accollo perché lui dice sono due tre anni che c'è questa cosa della prolissità non è che c'è da due tre anni questa cosa della prolissità caro ora io non so se darti del tu o darti del lei per abbreviare mi permetto di darti del tu caro Mauro Boselli non è che c'è da due tre anni è perché da qualche anno da tre quattro anni parlare dei fumetti su youtube è cominciato a diventare una cosa che fanno un po' tutti quanti gli appassionati prima non si faceva questa prolissità che ti si contesta che sono sì questa me l'accollo sono stato il primo a dirlo più e più volte e dopo che l'ho detto io molti altri hanno cominciato anche loro a esporlo e quindi questa va bene me l'accollo che ci sta che mi riprendo la responsabilità di questa mia cosa ma non è che sono due tre anni che tu sei volisso tu sei volisso mi permetto di darti del tuo tu sei volisso da tempo da tempo in memoria da sempre perché è il tuo stile come tu dici ma anche se tu dici che è un tuo stile e su questo posso anche essere d'accordo anche se non lo condivido perché tu dici che leggi sei un amante della lettura d'altura classica e quindi ti basi per scrivere i testi a queste impostazioni come se fosse un romanzo infatti hai citato Ludovico Ariossovi insomma Bukowski e tanti altri narratori che sono di altissimo livello e lasciatelo dire del quale anche se ti reputo su certi aspetti e questo forse tu non l'hai capito perché molti e questo è un consiglio che mi permetto di dare a tutti quanti gli artisti del fumetto italiano io penso che voi dovete un po' accettare le critiche dovete un po' anche farne tesoro non sempre stare sul piede di guerra perché se Faber o altri vi muovono delle critiche magari anche con toni un po' esasperati tra virgolette vi dovete anche un po' capire che tra virgolette è una dichiarazione fatta da chi ama il fumetto e quindi magari ha un modo particolare per esprimerelo ma non è che le persone che muovono critiche ai vostri fumetti ce l'hanno con voi personalmente ecco io penso che Mauro Boselli su questo rispetto ad esempio a un Burattini che se gli dice qualche cosa o sta prendendo male o ti risponde a mezza bocca lui è un po' più aperto infatti mi piace in quell'intervista che ho visto nonostante alcune cose che non mi sono piaciute e altre però devo dire che Boselli almeno le critiche magari sotto una... almeno le ascolta ecco cerca almeno di rispondere poi che tu dici che i dialoghi come li faccio io sono sempre inerenti alla trama ma questa è una grandissima cavolata lasciatelo dire perché tu dici in quella live io faccio sempre dei video, dei fumetti scritti con dei dialoghi che sono affini alla trama e questa cosa penso che tutti quanti quelli che ti leggono possono contraddirti perché molte volte capita che tu all'interno di questi infiniti dialoghi non è che sono dialoghi inerenti ma è il contrario tu dici non metto fuffa no 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 è il contrario tu riempi un modo esasperato di fuffa i famosi dialoghi di 20-30 pagine su un falò mentre si parla del nulla oppure quando in Dampier ci fai dei pipponi assoluti in cui i personaggi parlano di fatti loro dei quali non ci interessano niente in cui si allunga addirittura io in Tex Wheeler ci sono almeno saghe con due albi che sono tutti così quindi sì giustamente tu difendi il tuo modo di scrivere perché tu dici e su questa cosa ti do ragione alle persone piace sempre meno leggere quello è vero però a me piace leggere ma quando leggo dei dialoghi senza senso che allungano il broto quando ad esempio dalle saghe di Tex Wheeler di 5 albi 2 non accade praticamente nulla perché tu la devi dire avanti perché ti piace fargli parlare di cose tu dovresti ammetterlo che ti piace far parlare di personaggi a buffo e allungare i broti è il tuo modo che rompe le palle cioè io penso che tu rispetto a tanti altri e questo ti do merito io dico nonostante tu dici che io faccio la pagliaccia perché magari non segui tutti i miei video non ascolti le critiche fondate che ti faccio perché io ti critico soltanto la prolissità e ti ridico a volte il modo di ingarbugliare troppo le storie perché su Tex Wheeler incontra Zagor ad esempio hai creato veramente ti sei dovuto fare su un'epopea westerniana allungandola in un modo incredibile risaltando non i personaggi che dovevano essere al centro dell'attenzione perché se tu fai Tex Wheeler incontra Zagor i protagonisti devono essere solo loro non tutti quanti gli altri perché chi legge Tex Wheeler incontra Zagor avrebbe potuto vedere soltanto loro come protagonisti doveva essere quello il fulcro invece ti ho fatto come al solito il contrario né ti risalta una storia che è paragonabile a un romanzo tostoliano soltanto in lunghezza perché tostoi lo devi ammettere insomma è un'altra cosa tu non lo sarai mai anche se vorresti farlo e quindi hai creato un qualche cosa che ci ha rotto le palle che non doveva essere Tex Wheeler incontra Zagor io penso che doveva essere un incontro singolo uno, due, tre avventure ma semplici non tutta sta epopea piena di trame, sottotrame, dialoghi infiniti questo non è divertimento cioè questo qua è far vedere che tu sei bravo a scrivere trame infinite che rompono le palle perché quando noi leggiamo queste storie che Mauro te lo dico veramente col tutto rispetto ma a me le palle cadono per terra che devo fare? cioè nonostante trovi molto interessanti certe cose che fai allungandoli in questo modo ci stufi e quindi quando un fumetto stufa non diverte perché sei frustrato dalla lettura ecco un fumetto che frusta il lettore che frustra il lettore dovrebbe essere frustato per me cioè queste critiche che faccio a te io te le faccio perché siccome a te rispetto a un Burattini che per me è un autore di mediocre perché Burattini ad esempio che è il tuo collega non è però a livello artistico un tuo pari non ti spiccia manco casa, vedi sono oggettivo perché Burattini sono 30 anni che fa il compitino non ha mai fatto cose nuove, non ha mai creato nuovi personaggi ha sempre fatto la stessa cosa senza mai fare una storia di capolavoro invece tu ne hai fatte tantissime e poi rispetto a lui almeno tu le critiche le accetti non fai l'acido insomma ti vedo veramente più sul e su questo mi dispiace che tu pensi queste cose di me perché io comunque di te ho comunque una stima e ti reputo un vero autore un vero narratore di fumetti un vero scrittore che però ha questa pecca di sentirsi il Tolstoi italiano che francamente non lo sai, ripeto, non lo sarei mai e quando hai, io ti consiglio visto che penso che tu lo possa fare quando hai questa verve artistica invece di romperci le palle a noi nei fumetti scrivi un romanzo e lascia i fumetti fai delle storie più semplici più, ma no perché a noi non va di leggerle perché il problema è che io le leggerei pure il fatto è che tu non ti rendi conto magari oppure perché magari sei troppo di parte e non lo capisci molte tue storie sono veramente illegibili perché è possibile che un lettore dei fumetti mente legge di dei minimi mal di testa? cioè, e quello è il problema il problema di molte tue storie è che ci fanno cascare letteralmente scusa il termine le palle per terra ce le frantumano quindi la mia critica è questa e quindi siccome io so che tu hai creato Dampir hai creato la Senoidex Gwilder che è molto bella però molte saghe sono state allungate in un modo veramente insopportabile te lo dico ma ripeto queste critiche voi a tutti gli artisti italiani che quando vengono fatte dovreste un po' accettarle e anche farne tesoro perché io sono sicuro che se tu negli resti questi cavoli di dialoghi daresti più spazio ai personaggi e magari creassi meno come si dice ingarbugliamenti narrativi verrebbe fuori qualcosa di veramente più nuovo questo tuo stile è uno stile che va bene per i romanzi poi tocca vedere perché per i romanzi rompono le palle se scritti così toccherebbe vedere cioè questo è il tuo problema poi ripeto a livello di idee tu ovviamente sei dieci volte perché dieci volte tanti altri scrittori cioè dopo Castelli io penso che tu veramente sei il vero e più importante scrittore attualmente che c'è in Bonelli cioè Burattini che vede lo giro dagli dagli zagoriani in realtà nella sua carriera non ha mai fatto una storia che sia stata da nove non è mai successo e soprattutto ad esempio non ha mai creato novità ha sempre fatto le stesse cose cioè ha sempre usato lo stesso schema invece tu hai creato Dampir hai creato Tex Will le storie nuove hai inventato cose che prima non erano possibili cioè quindi la differenza è abissale però ripeto secondo me il tuo modo è un modo che dopo un po' rompe le palle questa cosa siccome sono stato il primo a dirtela più e più volte con i miei video e poi tanti altri si sono messi a dirla e a confermarla anche nei commenti oppure con altri video ti dovrebbe far riflettere poi che tu prendi posizione te ne freghi e vuoi continuare così va bene ci può stare perché comunque mantieni la tua la tua però sappi che le problematiche sono queste ci sono e un lettore di fumetti che legge Tex Will in Contrazzago non posta col mal di testa e col rodimento alle palle oppure come in Dampir con certe storie di tre cioè tu molte volte riempi le pagine di dialoghi e penalizzi molti disegnatori che per lavorare sono consente a farlo che magari manco te lo dicono ma veramente ma delle vignettoni così di dialoghi fuffa che tu dici che non fai ma che in realtà fai perché veramente l'ultimo texone con il quale io l'ho usato al posto della carta igienica è per far capire che quella storia è andata il problema di quella storia è tutto il meccanico meccanismo della narrazione che si inceppava perché era talmente pregno di roba con dei dialoghi che rompevano le palle perché quando ci sono personaggi che parlano 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 e nel frattempo all'interno dei dialoghi tu ci metti delle cose che accadono riferendosi a delle trame sotto trame che si intersecano fai confusione a noi ci fai un mal di testa ci fai arrabbiare le palle ci cascano per terra e il fumetto o lo ti lo strappi ecco perché perché è frustrante leggere un fumetto così nel 2024 soprattutto sapendo poi che tu sei un autore che può fare di meno la storia che per me più rappresenta il modo perfetto di fare di saperti di saper raccontarcela è Snakeman una storia che è passata sotto gamba a tutti quanti ma che forse è la tua migliore storia quella la famosa storia quella famosa vabbè che mi ricordo io più che altro quel textura alla francese con i disegni di breccia gli hai fatto una storia di 66 pagine colorata che disegna egrigiamente con pochi dialoghi con un finale bellissimo ecco quello è il sunto di quello che tu potresti fare se vuoi io penso che come noi dobbiamo un po' che tu come tu muovi critiche a chi dice che scusate il fumetto lo deve leggere ecco io ti muovo la critica noi leggiamo il fumetto ma tu snellisci sti cavolo di dialoghi fai trovi più veloci ammodernati e vedrai che trovi che le tue storie prenderanno più respiro perché veramente ne saremo più e questo la mia unica critica è questa fai i fumetti hai in mente grandi idee stringele portaci la vera avventura non fa sempre storie come fossero romanzi vuoi fare romanzo ce l'avrai penso stampa il romanzo sfogati facendo un bel romanzo e sui fumetti facci leggere i fumetti perché se tu mi fai Dex Wheeler incontra Zago non mi puoi fare ne popaia western naso povera tipo mare dentro che è qualcosa di inconcepibile che forse tu non ti rendi conto ma prova a leggere le tue storie e rendite conto e rendite conto che sta appresso a quello che tu scrivi è qualcosa di veramente tediante è come una dottura sulle palle scusa il termine è questa la critica che ti faccio poi ripeto se tu evidentemente come fai lo posso capire magari non ti soffermi a guardare i miei video perché c'è altro da fare nella vita veramente ma se tu ti metti a guardare i miei video e le critiche che ti muovo a parte la cogliardia dallo strappo queste cose qua vedrai che tante cose che io ti dico sono cose che ci hanno senso perché non è che le dico tanto per dire io quando critico qualche cosa è perché mi baso su delle cose che leggo su delle emozioni su delle sensazioni poi che il fumetto Bonelli è sempre stato così tocca vedere perché pure inizi a un modo di scrivere un po' un po' bello di da scalico tra virgolette ma non faceva dialoghi con all'interno trame sotto trame rimandi quello e quell'altro cioè a me pure piace leggere dei fumetti con dei dialoghi però che siano non fuffa come tu dici che non è ma che la realtà è qua tutti i lettori devono venirmi a favore perché lo sanno lo pensano lo dicono e quelli che non lo dicono più è perché adesso hanno cambiato idea e quando si cambia idea su delle cose perché si è influenzati dagli altri non è esprimere la propria opinione molti la pensavano questa cosa ecco la problematica è tutta là è lì che si concentra quindi io penso che tu e tanti altri scrittori dei fumetti quando venite criticati fate le storie delle critiche non impuntatevi sempre perché voi da chi vi sostiene da chi vi paga gli albi dovreste anche un po' capire e ascoltare non mettervi sul pedestale e pensare a me gli autori che sono permalosi che non accerpano le critiche per me sono i peggiori gli autori devono accettare le critiche e anche farne tesoro soprattutto da chi dimostra come me ed altri che ci sono delle fondamente in quello che dicono che leggono da anni i fumetti e che sanno come funziona il meccanismo fumetto come arte è questo che voi dovreste far poi rivedo io non sto creando questo video non è un video polemica è soltanto un video in cui voglio specificare questa cosa tu sei un vero comunque sei un vero autore mi dispiace se tu pensi che sono che gli amici sono sotto quello guardali ascolta magari le mie critiche poi magari in un futuro abbiamo un modo di confrontarci sarei veramente contento perché con te magari un confronto lo farei perché almeno le critiche ripeto le accetti ci stai tra virgolette magari potete difendere perché giustamente l'acqua è un mulino e quello ci sta per carità però almeno un modo di confronto si può avere però non dire che faccio le bagliacciate perché io quando faccio delle cose gogliardiche lo so che lo sto facendo lo so che dico faccio questo ma la gente lo so ma fa parte della mia critica è un modo per cercare di far capire quanto veramente mi sono rotto la palla di certe cose poi che è normale che a volte sono veramente arrabbiato no a volte la faccio sempre quando faccio video mi ruolo perché sono veramente arrabbiato se vedete mi siete in faccia quindi è questo il fulcro del discorso sono cose che tanti pensano infatti hai detto nell'intervista dell'altro gioco che c'è pure chi ti ha scritto le lettere di queste cose quindi insomma non è che è soltanto Faber sono tanti altri però io preferisco a questo cioè preferisco dirlo a chi reputo veramente ecco un maestro perché tu su questo sei veramente un maestro no ripeto come Burattini che non ha mai fatto un capolavoro che campa di rendita perché c'ha Zagore e i zaguani pure che gli vanno appresso invece di ma portaci tutte cioè invece di portarci in unità invece no lui ha tutta la mappa pronta continua a fare sempre le solite cose e viene pure elogiato cioè lui è un conto tu sei un altro livello anche le storie che hai fatto tu su Zagore sono nettamente solo da quelli che ha fatto lui c'è Stafo Paragoni io l'ho lette anche di recente l'ho lette alcune due storie veramente quelle sulle sette sulle sette città di cibo la bellissima cioè quindi Boselli è un altro livello è un'altra mente secondo me cioè il minimo Paragoni chi paragona Burattini a Boselli è come quando dice Burattini e Verdi sono gli eredi di Nolita e Ferri che chi dice questa cosa di fumetto non capisce assolutamente niente bestemmia e quindi chi dice che Burattini è come Boselli ribestemmia l'altra volta perché Boselli è un creatore un innovatore Burattini è un copiatore acido che ne può fare la critica e si mette a piagne oppure magari se ti fai la critica e ti fai il video su Genito ti fai il fumetto su Genito e te lo fa apposta perché rosica cioè invece le critiche per gli artisti devono dovete accettarli e lo dico a tutti a tutti quegli artisti che sentono galla voi artisti senza noi che vi paghiamo vi sosteniamo e in questo caso vi facciamo tanta ma tanta ma tanta ma tanta ma tanta pubblicità dovreste essere contenti e qualche volta fateci contenti ascoltate le nostre richieste Boselli perché una volta perché non mi fai un bervì perché non mi dice perché non mi fai una bella citazione su un tuo fumetto sarei contentissimo pure mentre sto a strapparne uno mi divertire tantissimo perché io ci sto ai giochi scherzo però vabbè scherzo però vedi io io la vengo nonostante tu metto queste che sono pagliacciate però ripeto se puoi vai ascolta o magari guardate questo video ascolta quello che ti dico perché io te lo dico veramente perché col massimo rispetto è che tu veramente sei uno che ammette anche ascoltare quello che dice però a moderna si dialoghi perché le potenzialità perché ormai sei già arrivato all'apice secondo me i presupposti per creare qualcosa di ancora di ancora bello ci sono è quella la mia critica tutto qua quindi ragazzi fatemi sapere voi magari qualche cosa nei commenti e poi ragazzi diciamo una volta la prolessità rompe le palle è quello il problema è quello e non perché uno non c'ha voglia perché certe cose sono sostenibili l'ultimo Dexone è uno dei peggiori nonostante fosse interessante perché mi andavo a riparlare una volta dalla guerra di secessione ma così è una tortura infinita io ho certi arbitri dei Boselli ma la detesta Mauro veramente io lo dico col cuore in mano spero che capirai accettare le mie critiche poi vuoi continuare va bene ci sta perché pure il buon vecchio Castelli ha continuato sulla sua strada per carità ma voi siete artisti almeno siete veramente maestri e invece quell'art che veramente so so veramente autori delle serie B e voi li elogiate a serie A quando invece quando vengono nel momento in cui voi vi elogiate a serie A dovrebbero andare in C ma anche più in B perché veramente di capolavoro ai storie Burattini dimostra veramente secondo me una carenza per quanto riguarda la lettura dei fumetti oppure essere parte ecco cioè vabbè quello è un altro discorso quindi questo era quello che volevo dire a Boselli nel caso che guarda il video sono contento e ripeto in un futuro sono tranquillamente disposto magari a fare quattro chiacchiere con lui perché almeno le rite bene o male le accetta e soprattutto dà risposte che almeno sensato come fa Burattini che storcia la bocca e sapia male o e ti dà una risposta che dà una risposta è quella la differenza tra un grande autore che continua comunque a fare il suo lavoro con tutte le problematiche che c'ha ma ripeto Dampi Tex Will e Tex mangia un testa allo zagor di oggi proprio a mani basse proprio a mani basse perché Boselli è un grande scrittore anche se rompe le palle con i suoi testi molte volte però almeno è un innovatore cerca di creare cose nuove cioè riportare Tex su Tex Will e Ranger prima di diventarsi Ranger è stato interessante ed è bello cioè quindi c'è questa cosa c'è questa voglia più che altro invece Burattini sta asseduto a fare confidino e vuoi capolavoro capolavoro quando invece il capolavoro Burattini non l'ha mai fatto ecco la differenza non l'ha mai fatto perché lui campa sugli allori e io tu odi con faccia quindi questo è veramente tutto ragazzi quasi mezz'ora di video fatemi sapere voi nei commenti se cosa ne pensate io vado un buon abbraccio e saluto anche Mauro Boselli ok Grazie a tutti.